In città fa discutere la creazione di un nuovo parco commerciale nella zona di Centicolella. Mentre si discute sul futuro di un centro storico sempre più preda di nuove aperture ma che riguardano pub, ristoranti o bar mentre l'altro commercio arranca, c'è una levata di scudi da parte di cittadini e commercianti su questo tema. Il comune in sostanza ha dato il via libera alla realizzazione di un parco commerciale non lontano dal centro commerciale L'Aquilone e dalla Galleria Gran Panorama. La società proprietaria dei terreni si impegna a realizzare anche parcheggi pubblici nel lato sud-est creando anche una zona di verde attrezzata con giochi. Un accordo di convenzioni ormai fatto ma che necessita anche dei pareri di Gran Sasso Acqua e altri settori. Le reazioni però non si sono fatte attendere. Molti commercianti del centro storico in un momento particolarmente difficile si sono detti contrariati da tale scelta che va a penalizzare ancora di più un centro storico nel quale la gente non va o almeno non è sufficiente a coprire le spese e a farli guadagnare un pochino. Finché non ci torneranno scuole e uffici pubblici è difficile pensare che possa andare diversamente in centro. Anche Sinistra Italiana ha attaccato il comune dicendo che manca la pianificazione tramite Perluigi Annarelli e Enrico Perilli che hanno attaccato duramente l'amministrazione Biondi su questo punto.